In questo tutorial vediamo come risolvere problemi parametrici con l'uso di sistemi lineari. Partiamo da questo esempio. Determine i parametri h e k in modo che questo sistema sia verificato dalla coppia x uguale 1, y uguale 1. Per andare a determinare i parametri h e k devo tener presente che questo sistema risulta essere verificato dalla coppia x uguale 1, y uguale 1. Ciò vuol dire che se in questo sistema al posto di x mettiamo 1 e al posto di y mettiamo 1, dobbiamo ottenere un'identità. E allora al posto di x ho sostituito 1, al posto di y ho sostituito 1, ottenendo questo sistema. Ora, nella prima equazione semplifico 1 e meno 1 ed ottengo h uguale 0. Nella seconda equazione sommo 1 con 3 ed ottengo 4. Portando a destra otteniamo k uguale meno 4. E allora per h uguale 0 e k uguale meno 4 questo sistema ammette questa soluzione. Determine i parametri a e b in modo che questo sistema sia verificato dalla coppia x uguale meno 2, y uguale 4. Per determinare i valori di a e b dobbiamo tener presente che la coppia meno 2 e 4 è la soluzione di questo sistema. Ciò vuol dire che se al posto della x sostituiamo 2 e al posto della y sostituiamo 4, dobbiamo ottenere un'identità. E allora al posto di questa x ho sostituito meno 2. Qui al posto di y metto 4 e 4 per 3 è pari a 12. Nella seconda equazione al posto della x sostituisco meno 2 e 6 per meno 2 ottengo meno 12. Ed infine qui al posto della y sostituendo 4 vado ora a determinare il valore di a nella prima equazione. Porto 12 a destra e si ottiene meno 2a uguale 16 meno 12 che è pari a 4. Nella seconda equazione porto il meno 12 a destra ed otterrò meno 4b uguale 12 più 4 che è pari a 16. Moltiplico ora qui e qui tutti e due membri per meno 1 ottenendo 2a uguale meno 4 e 4b uguale meno 16. E poi nella prima equazione dividiamo tutti e due membri per 2 ottenendo a uguale meno 2. Nella seconda equazione dividiamo tutti e due membri per 4 ottenendo b uguale meno 4. E allora per a uguale meno 2 e b uguale meno 4 questo sistema ammette la soluzione meno 2 e 4. Determine i parametri a e b in modo che questo sistema sia verificato dalla coppia un mezzo meno un mezzo. Per andare a determinare i valori dei parametri a e b dobbiamo tener presente che questa è la soluzione di questo sistema e allora vuol dire che se al posto di x e y nella prima e nella seconda equazione sostituiamo un mezzo meno un mezzo dobbiamo ottenere un'identità. Qui al posto di x ho sostituito un mezzo, qui al posto di y ho sostituito meno un mezzo ottenendo meno un mezzo a. Nella seconda equazione al posto di x ho sostituito un mezzo ed infine qui al posto di y ho sostituito meno un mezzo. Visto che di fronte c'è un segno meno dovrò mettere un più ed otterrò 5 terzi per un mezzo. Vado ora a risolvere questo sistema. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo nella prima e nella seconda equazione possiamo semplificare i denominatori. Riscriviamo il sistema in forma canonica ed ora per risolverlo utilizzerò il metodo di addizione e sottrazione moltiplicando per meno 2 la prima equazione. In questo modo sommando membro a membro le a si semplificano e si ottiene 7b uguale meno 7. Dividendo tutte e due membri per 7 otteniamo b uguale meno 1. Determinato il valore di b sostituendo qui a conti fatti si ottiene a uguale un terzo. Determina i parametri a e b in modo che questo sistema sia verificato dalla coppia 1 meno 1. Per determinare a e b tenendo presente che 1 meno 1 è la soluzione di questo sistema allora al posto di x nella prima e nella seconda equazione sostituiamo 1 e al posto di y nella prima e nella seconda equazione sostituiamo meno 1. In questo modo otteniamo un'identità che deve essere verificata. Nella prima equazione al posto di x sostituisco 1, al posto di y sostituisco meno 1 ottenendo questa prima relazione in a in b. Nella seconda equazione sostituiamo di nuovo 1 e meno 1 ottenendo un'altra relazione che mi lega a e b. Vado ora a risolvere il sistema. Dalla seconda equazione esplicitiamo il valore di a e andiamo a sostituire qui al posto di a b più 4. Otteniamo così un'equazione in b che andiamo a risolvere. A conti fatti si ottiene b uguale 7. Determinato il valore di b, sostituendo qui con 7, otteniamo a uguale 11. Vediamo quest'ultimo esempio. Determina per quali valori m ed n i polinomi a di x e b di x sono identicamente uguali. Per risolvere questo esercizio devo ricordare il principio di identità dei polinomi. In altre parole, devo imporre che il coefficiente di x quadro di a di x deve essere uguale al coefficiente di x quadro di b di x. In questo caso il coefficiente di x quadro in b di x è pari a 1 e allora devo andare a scrivere m meno 2n deve essere uguale ad 1. Passo ora al coefficiente in x. Il coefficiente in x di a di x, ossia m meno 1, deve essere uguale al coefficiente di x nel polinomio b di x, ossia 3n meno 4 e allora devo scrivere m meno 1 uguale 3n meno 4. Infine controllo i numeri. In a di x il numero è 4. In b di x il numero è 4. Se questi numeri fossero stati diversi tra di loro, i due polinomi certamente non potevano essere uguali tra di loro. Tenendo ora presente le due relazioni che ho ottenuto, posso metterle a sistema e vado a determinare il valore di m ed n. Dalla prima equazione esplicitiamo il valore di m e andiamo a sostituire qui al posto di m 1 più 2n. Otteniamo così un'equazione in n che andiamo a risolvere. 1 e meno 1 li vado a semplificare tra di loro. Porto 3n a sinistra ottenendo meno n uguale meno 4 e quindi n uguale 4. Determinato il valore di n sostituendo qui ottengo 4 per 2 è 8 più 1 è 9 e quindi m è uguale a 9. E con questo termino il tutorial su come poter risolvere problemi parametrici con l'uso dei sistemi lineari.